parliamo di teatro il nostro amatissimo musical un grande classico firmato disney the beauty on the beast ovvero la bella e la bestia vent'anni di successi vent'anni celebrati nel primo ed esclusivo tour italiano fino al prossimo 3 gennaio in scena al teatro degli arcimboldi di milano paolo vitale di central park ha incontrato per noi i protagonisti parliamo di questo musical e del suo incredibile successo sin dalla sua apertura io ritengo che questo grande grande successo sia dovuto al bellissimo messaggio che questa storia ha e che possiamo riassumere semplicemente in un guarda le persone in profondità e amale per quello che esse sono realmente e questo quello che tutti noi come persone in realtà desideriamo poi cosa posso dire che le musiche sono incredibili alan menken e howard ashman sono stati semplicemente geniali e poi ancora le scenografie i costumi la regia tutto ha contribuito a realizzare un magnifico show che ha fatto di questo spettacolo un musical di grandissimo successo I never thought I'd leave behind my childhood dreams but I don't mind I'm where and who I want to be no change of heart a change in me no change of heart a change in me essere la protagonista di un musical che compie 20 anni è una cosa un po' irreale specialmente essere qui in Italia questo è il terzo anno in questo ruolo ed ogni volta che lo interpreto mi innamoro di più del mio personaggio sono molto fortunata ad avere Derek come bestia abbiamo sempre recitato assieme è stato la mia bestia per più di 600 repliche è veramente un sogno che diventa realtà e siamo entrambi molto grati di questa opportunità una cosa che rende Cogsworth e Lumiere così amati e che permette alla gente di entrare in empatia con loro e di divertirsi così tanto è che sono un duo comico assolutamente tradizionale e come in tutti i duo comici c'è sempre quello più rigoroso e quello più divertente e di loro essere in disaccordo fa ridere sono entrambi divertenti ed ironici in un modo proprio sono molto diversi l'uno dall'altro così tu ti senti simile un po' a tutti e due quando li vedi recitare assieme il costume che io ho è probabilmente il più difficile da far muovere e forse sono anche il partner più difficile da avere durante lo show io mi ritrovo a ballare con diversi personaggi durante lo spettacolo come per esempio Belle ed io ho il terrore di far cadere Belle proprio nel mezzo dello spettacolo poi ballo molto anche con Babette la mia fidanzata sul palco è un ruolo che richiede molta fantasia questo è il prezzo di avere due candele al posto delle mani però è probabilmente la tricchia parte quando ha avuto delle candele al posto delle mani la mia fidanzata sul palco Beauty and the Beast Tale as old as time Song as old as rhyme Beauty and the Beast